Finora sono stati oltre 200 gli artisti che hanno partecipato alle 9 sessioni del progetto culturale e pluripremiato Box Art. Gli ultimi 30 in ordine di tempo che hanno animato le residenze artistiche del Lungo Fiume Cosentino hanno presentato le loro opere al sindaco Mario Chiuto, opere che andranno ad implementare la collezione del nascente Museo di Arte Contemporanea che dovrà sorgere proprio sul Lungo Fiume. Questo finissaggio conclude la 9 sessione dei Box Art che sinora ha ospitato ben oltre 200 artisti, artisti molto importanti, di fama internazionale che hanno lasciato qui le loro opere che faranno parte del Museo di Arte Contemporanea della città di Cosenza. Questa sessione ha beneficiato anche delle numerose presenze che il Lungo Fiume Boulevard ha qui portato grazie anche alla presenza di contaminazioni musicali qui nell'area 3 con artisti anche importanti del panorama musicale, quindi una contaminazione artistica molto bella che ha davvero affascinato le tante persone che in questo periodo hanno avuto il piacere di visitare Box Art che ritorneranno dal prossimo mese di settembre. Sono già 16 gli artisti selezionati per la sessione che prenderà il via a fine settembre, artisti che interagiscono con la città e con la popolazione utilizzando i più svariati materiali per le loro opere, perfino il cartone. L'obiettivo di questo lavoro era proprio mettere un punto fermo in questo bellissimo progetto per il quale sono onorato di essere stato invitato e ho utilizzato questo materiale proprio perché i cartoni sono dei box fondamentalmente e quindi il mio interesse era proprio collegare l'opera d'arte, l'installazione ambientale con quello che è appunto l'ambiente circostante sia cromaticamente che formalmente.